Buonasera, buonasera e jump, anche se quasi in chiusura comunque. Eh ragazzi, è stato l'unico momento libero dove potremmo fare un video perché per noi è già Natale, oggi è veramente un sacco di gente, ad ogni modo ripartiamo dai Tim Floyd, questo è il settore che abbiamo dedicato a loro e a David Guillermo in piena persona perché fra pochi giorni oramai ci sarà il primo degli eventi che vedranno il nostro grande chitarista inglese al Circo Massimo e non solo, vi diciamo anche che a parte quello che vedete arriveranno anche altri titoli fra cui quelli che secondo me sono i due milioni CD, i due milioni album che ha fatto Roger Waters, The Pros and Cons e Radio Chaos, li avremo sul CD perché anche Roger Waters è meglio di stare in questa vetrina bellissima, veramente bella, bella, bella. Adesso vi faremo vedere poi gli ultimi arrivi, qui c'è Diluto dal Blu-ray audio di David Guillermo, questo è il suo CD, vinile limitato, vinile colore nero, è tornato anche il suo catalogo di DLP che si potrebbero trovare, insomma ragazzi, era dove lo so farlo, era dove avevamo promesso, poi abbiamo anche il T-Shirt che mi ha fatto vedere Fede ieri, tazze, merchandise, di tutto e di più e non è finita qui perché so che tanti di voi che ci seguite sul nostro canale di YouTube verrete a trovarci il negozio, lo sappiamo, lo sappiamo che ci avete anche avvertito, per cui nel frattempo vi facciamo vedere altri titoli che sono arrivati ieri, tra cui il Blu-ray audio di Ziggy Stardust, eccolo, il Blu-ray audio stanno muovendo, attenzione, attenzione, sono rientrati anche i CD, rimassalizzati il 2023 di Foxtrot, Wind & Woodering e Staring the Bound Genesis, arrivato il live degli Skidron CD più DVD, rientrato Cowboys from Madre de Pantera, rientrato il clamoroso CD dei Zetra, gruppo pazzesco di gothic rock composti femminili, un duo inglese che vi straconsigliamo sia sul video che sul CD, Stepshead è rientrato il loro primo album sul CD, Japan, New Entry, Band on the Run in SHM CD di Paul McCartney e i suoi Wings, adesso è il 2024, ci sono da pochissimi giorni in Giappone, è arrivato anche New Entry, Blu-ray spec del primo album di Boston, e è rientrato Alchemy dei Daya Straits, non è una minaccia, è un avvertimento, ai primi del mese prossimo arriverà una terza ondata di CD dal Giappone, prendevamo tutto, stiamo prendendo tutto, Vinili, arrivata la lezione americana di Rain and Blood degli Slayer, insieme a Master of Puppets e Red Riding di Metallica, rientrato Romance e le Fountain DC, il disco più venduto di Indie New Wave qui nel nostro negozio, Ok Computer Radiohead e The Wind is Dead degli Smiths, rientrato il nuovo di Jack White, di cui faremo seguente la recensione in settimana, Violator di Repetion Mode e l'Origin Master of Gordon di Jeff Beck con gli Alamed Group dal vivo, rientrate le tre nuove ristampe di Shadet, registrate in maniera pazzesca, e per il jazz rientrate le due ristampe su MPS AAA che sta per analogico, 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 di Enar Ardei e Hello Herbie e chiudiamo con questo, che è un capolavoro che prenderemo per tutta la vita, Tutti questi dischi li troverete su www.vistech.com e ovviamente qui in negozio, ci avete scritto in tanti, abbiamo avuto modo solo di fare il video in chiusura, perché abbiamo risposto a decine e decine di lettere, sono arrivate tanti tanti ordini, insomma ragazzi grazie di tutto, mi raccomando, se non vi rispondiamo subito non temete, lo faremo il giorno dopo, scriveteci su info.idfpoint.it o info.idfpoint.com per avere qualsiasi informazione di cd che volete richiedere, vi pare che è tutto no Fepè? Sì. Saltiamo e... Giampo! A domani mattina, buonanotte a tutti.